Ciao a tutti! Oggi voglio mostrarvi delle idee per delle nail art autunnali. Ci stiamo avvicinando all'autunno. Io adoro l'estate come stagione sia per il clima sia per il fatto di poter andare al mare, però anche l'autunno non mi spiace, infatti settembre è uno dei miei mesi preferiti. E voi invece amate l'inverno, l'estate, la primavera o l'autunno? Fatemi sapere qua sotto in un commento. Comunque siccome si sta avvicinando questo periodo dai colori rossicci, arancioni, bellissimi tra l'altro, ho deciso di fare questo video. Trovate anche sul mio blog un articolo dove vi mostro le nail art da cui ho preso ispirazione e vi faccio vedere nel dettaglio queste qua che ho realizzato. Quindi cominciamo. Su una base marroncina chiara ho deciso di fare una zucca arancione. Se i colori non li avete, precisi come li ho fatti io, potete anche voi miscelare quelli che già avete per creare la tonalità perfetta. Dopodiché faccio delle linee più scure, delle linee più chiare per il riflesso, il picciolo della zucca e due ricciolini con il verde. Aggiungo dei puntini che stanno sempre bene ovunque secondo me. In quasi tutte le unghie che vi mostro ho abbinato un'altra tip, in questo caso verde scuro opaco. Passiamo alla seconda. Faccio prima uno strato di bianco, poi ho mischiato leggermente un po' di marrone al bianco perché non volevo fosse un bianco proprio gesso, volevo fosse un più bianco sporco. Poi diluisco del marroncino con un po' di top coat e faccio questi rami perché non voglio siano totalmente marroni, scuri. Quindi con il giallo, l'arancione e un po' di rosso vado a creare queste foglie. Non catalizzo a ogni colore che metto, infatti vedete, lo lascio così perché voglio creare delle sfumature. Inizio a sfumare i tre colori insieme con lo stesso pennellino con cui li ho applicati. non sono precisa, non voglio creare qualcosa di perfetto perché appunto sono delle foglie che stanno perdendo il loro colore vivace, quindi mi piace anche che siano un po' imperfette perché in natura non tutto esce bene, diciamo. E completo la fogliolina facendo la parte sotto e dopodiché completo il tutto con delle linee nere, come state vedendo adesso, in modo da contornare le foglie. Grazie. Quest'unghia l'ho voluta abbinare ad un'altra dove ho eseguito la stessa sfumatura e l'ho sigillata con il top coat opaco. Continuiamo. Adesso voglio realizzare una nail art molto semplice che è adatta a unghie più lunghe ma anche a quelle più corte. Utilizzo il bianco, il giallo, l'arancione e il marrone per creare ai bordi dell'unghia dei puntini. Poi sui puntini arancioni uso il giallo, sui puntini bianchi uso il marrone, su quelli marroni uso il bianco e su quelli arancioni uso il giallo, forse l'ho già detto, scusate, insomma comunque. Utilizzando i colori opposti diciamo faccio i petali, come potete vedere, e continuo così su tutta l'unghia. La trovo molto delicata e carina, adatta appunto a tutti i tipi di unghie e tutte le forme. Questa qua decido di farla lucida e la abbino semplicemente a un'unghia marrone. Continuiamo con la prossima unghia. Ho realizzato prima uno strato di marroncino chiaro, poi ho mixato dei colori per fare questa tonalità di marrone e sto facendo due passate. Dopodiché con il bianco realizzo una zona bianca, prima con il pennello direttamente del semi permanente, poi faccio una seconda passata e mi aiuto con il pennellino fine a definire i bordi e poi di nuovo ripasso quello del semi permanente direttamente. Realizzo questa foglia un po' stilizzata ma anche un po' strana, non so come dire, un po' minimal e attacco poi anche un po' di foglia d'oro in modo da dare quel tocco di luce in più, come vedete. L'ho abbinata a una bianca con delle foglie sempre stilizzate. Continuiamo, questa è un'unghia non totalmente bianca, dalla telecamera sembra bianca, in realtà ci ho aggiunto una punta di rosa. Adesso sto facendo un triangolino con oro rosa flash di Passione Unghie, è un colore davvero bellissimo, super riflettente. Poi utilizzo un bordeaux e faccio questo ramoscello con delle foglioline. Dopodiché con il bianco farò due puntini che sono il centro di due fiorellini e faccio i petali sempre però stilizzati a puntino con il marrone chiaro. E quest'unghia l'ho abbinata a un'unghia rosa con della foglia d'oro al centro. Su quest'altra invece faccio uno sfondo rosa e vi lascio qua il procedimento dell'effetto marmo diciamo. Volevo fare una cosa effetto marmo ma con i toni arancioni, rossi, marroncini eccetera. Vedete sul retro di una cartina sto applicando i colori che mi interessano e li mischio un po' con un dotter e poi con un pannello lo prelevo in modo che i colori si miscelino ancora un po' tra di loro e poi li applico così sulla tip. Mando in lampada e continuo perché volevo farlo più grande e cambio la quantità dei colori, metto un po' più di giallo, un po' meno di marroncino eccetera e continuo così. Se volete un video dettagliato su come si fa l'effetto marmo vi lascio il link qua sotto perché l'ho già realizzato. Completo il tutto con questa foglia d'oro. E concludiamo questo video con un'ultima unghia. Questa me la sono diciamo inventata io, non ho preso ispirazione da nessuno. Sto allungando i colori che mi interessano con un po' di top coat. Quindi come potete vedere giallo, arancione, verde e arancione tendente al rosso. E faccio delle chiazze non definite. Volendo si potevano fare ancora più diluite però io ho voluto che si vedessero. Dopodiché mando in lampada e sigillo tutto con un top coat opaco. Dopodiché utilizzo un nero senza dispersione e faccio delle foglie un po' stilizzate e anche dei rametti. Dopodiché non sigillo perché il nero appunto si autolucida. E quindi queste sono le mie proposte di Nile Art autunnali. Vi piacciono? Fatemi sapere qua sotto con un commento. Non dimenticatevi di andare a leggere l'articolo sul blog abbinato a questo video. Vi ringrazio tanto per la visione e seguitemi su Instagram dove posto ogni giorno nuovi contenuti, nuove storie e vi posso aggiornare in tempo reale delle cose che provo. e niente grazie mille per la visione. Alla prossima!